amici appassionati di calcio giovanile buongiorno e ben ritrovati d'alba adriatica in compagnia di nicolò cecchi di live sport academy allora ci siamo si sfidano alba adriatica contro core categoria 2012 kickoff si parte è iniziata la gara con il primo possesso dal basso per il coro se ne va benissimo poi si crea lo spazio per calciare il tiro che deve ribattuto avanza bene il coro l'apertura sterza entra dentro tutto lui fa tutto bene vantaggio per il coro dopo un minuto e mezzo dal fischio d'inizio rimessa laterale per l'alba adriatica prova a girarsi fuori di poco ma fuori punizione per il coro parte forte dentro una serie di deviazioni e la palla supera la linea sfortunata in questo caso l'alba adriatica raddoppia il core 2 a 0 riesce a passare entra dentro con il tacco se l'ha inventato bello matteo pisani nato il 15 febbraio del 2012 ora rimessa laterale per il club olimpico romano batte elefante palla al centro è bellissima la girata di pisani fuori di poco rimessa laterale per l'alba adriatica tutta centrale non tocca nessuno allontana la difesa poi la palla rimane lì fa buona guardia rafa morrison pisani vada solo pisani bello dribbling poi la stersata al centro un assist meraviglioso per lorenzo ciucci che salta al portiere la mette in rete 3 a 0 casacche blu con bresciani che poi arriva sul fondo litiga un po con il pallone tra i piedi viene pressata alle spalle e ne perde il controllo 120 secondi o poco più al triplice fischio riesce ad avanzare con un tocco nel salta due e poi la schiaffa in rete andreas risos il gol che vale il 4 a 0 per il core al basso e non c'è più tempo termina qui l'incontro triplice fischio vince il core 4 a 0